Scout, ma si può sapere che cosa ti ha preso? Andiamo, andiamo. Attico, se non voglio più andare a scuola. Ma Scout, sei soltanto il primo giorno. Non mi importa, è cominciata male. La maestra si è arrabbiata con me, mi ha detto che tu mi hai insegnato a leggere tutto sbagliato. E di non farlo più. E poi quella scema voleva dare un quarto di dollaro a Walter Kenningham. Invece lo sanno tutti che i Kenningham non accettano mai niente da nessuno. Poteva chiederlo in giro, lo sanno anche i sassi. Beh, forse era un po' nervoso. Dopotutto anche per lei era il primo giorno di scuola ed è nuova di qui. Ah, Atticus. No, ascolta bene. Se riesci a imparare una cosa sola, vedrai che ti troverai molto meglio anche a scuola. Non riuscirei mai a capire una persona se non cerchi di vedere le cose anche dal suo punto di vista. E cioè? Devi cercare di metterti nei suoi panni e andarci a spasso. Ma se io segui tu ad andare a scuola non potremmo più leggere insieme. Scout, lo sai che cos'è un compromesso? Fregare la legge? Ah, no. È un accordo, è un venirsi incontro a mezza strada. Senti, lo sai che facciamo? Tu accetti il principio che si deve andare a scuola e io continuerò a farti leggere lo stesso tutte le sere, come abbiamo fatto finora. Affare fatto? Ascolta, perché facciamo? Grazie a tutti.